A Napoli si continua a sparare, continua la guerra di Camorra. Il controllo del territorio e le varie fae dei tre clan stanno coinvolgendo tutta l'area metropolitana della città, dal centro fino all'area nord fino a quella visuviana. Stavolta la vittima è una donna, una madre che si è lanciata davanti alla porta per proteggere il figlio, ma i sicari hanno premuto ugualmente il grilletto. Amalia Sepe, 57enne del rione Don Guanella, pregiudicata, è stata ricoverata all'ospedale Cardarelli dopo che due pallottole l'hanno raggiunta al basso ventre. L'agguato è avvenuto alle 17.15 circa di ieri, quando la donna stava rincasando col nipotino. È stata bloccata davanti alla sua abitazione da due sconosciuti che, puntandole contro l'arma, le hanno intimato di far uscire il figlio, un 33enne, anche egli pregiudicato. La donna, intuendo quello che stava per succedere, si è parata davanti all'ingresso. A quel punto i criminali sono entrati in azione. Uno dei due le ha puntato la pistola alla tempia, mentre l'altro le ha tolto il bambino dalle braccia. Il tutto per costringere il vero obiettivo dell'agguato, il 33enne, figlio della donna e padre del bambino, che in quel momento era all'interno dell'abitazione, a uscire allo scoperto. La donna lo ha capito e ha coperto il figlio, rimanendo ferita dai colpi di arma da fuoco, trasportata dal personale del 118 all'ospedale Cardarelli, non è in pericolo di vita. Il bimbo è rimasto illeso, mentre il 33enne potrebbe aver riportato una lieve ferita sulla coscia. Sul posto, dopo l'allarme, è intervenuta una pattoia della costura di Napoli. Le indagini sono affidate agli uomini della squadra mobile e ai polizzotti dei commissariati di Scampia e Chiaiano, che stanno cercando di ricostruire i motivi del ferimento, scavando nelle frequentazioni del 33enne. Grazie.